allora adesso sorpresa sorpresa non vi dico niente non entro nei particolari ma probabilmente non combinata un'altra guarda qua che sarà dov'ira e allora proviamo in realtà io ho già provato perché la vedete questa fatta con quelle ho fatto il mio primo sapone da barba non il primo sapone in assoluto perché saponi per casa già li faccio che facevo una cazzata ma questo è il primo da barba oggi è arrivato l'allume che si l'alluncia una potenza caustica e allora già tutti come fatto come non è fatto la riceve la metto la ricetta per ametto tanto niente di che essendo primo tentativo tre ingredienti di numero semplice semplice di almeno se ne dubita questo è tutto quello che ho fatto 200 grammi io almeno se devo buttare butto poco vado allora aspetta no allora prima considerazione chi le acqua adesso non so allora comincia ma rimane proprio attaccato alla ciotola guardate qua quindi un pochettino l'acqua neanche l'alto alla come cambina calida e cominciamo montatina ci vuole un pochettino comunque bianco lucido non so perché trema tutto il video che cazzo la sta succedendo ma eccolo qua ha bisogno di un po di lavorazione il giusto nel troppo nel troppo poco non è uno di quelli alla palmolive che monta solo guardandolo però devo dire che alla fine carino ve lo guarda qua vediamo un po il piastriccio denso lucido tutto sommato cremoso tutto sommato una bella abbrancallonata diciamo che come primo tentativo gioco sta cesta 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 cesta